L'11 aprile 2014 stiamo ripartendo per Taranto, meglio per Bari, qui siamo a Bruxelles e oggi è una giornata quasi di sole, per noi sicuramente una bella giornata. Abbiamo incontrato ieri la Commissione europea, abbiamo incontrato il Ministro europeo per l'ambiente che è il Commissario Otocnik, è stato molto importante ricordare la gravità della situazione di Taranto, lui era perfettamente corrente e credo che questa storia continuerà, abbiamo cercato di portare la voce dei cittadini, ritorniamo e pensiamo di aver fatto qualche cosa di bello, di utile per la nostra città, per quelli che non sono potuti venire qui e che sperano veramente che Taranto possa avere un futuro migliore. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!